Grave incidente stradale poco dopo le 12.30 sulla Teramo Mare, dove Giovanni di Berardino, un anziano di 90 anni di Nereto, alla guida di una Fiat 600, ha imboccato contromano la strada a scorrimento veloce, molto probabilmente da Villavomano, facendo diversi chilometri in senso contrario sulla corsia a direzione Teramo, prima di fermare la sua corsa in un frontale con un'altra autovettura, una Volvo X60 guidata da un 47enne che non è riuscito ad evitare l'impatto poco prima dell'uscita a San Nicolò. L'anziano è deceduto per le ferite riportate nello scontro, mentre il conducente dell'altra macchina coinvolta è stato trasportato all'ospedale Mazzini di Teramo, dopo i primi soccorsi sul posto. In vanno la polizia stradale aveva cercato di intercettare la 600 che viaggiava contromano. Non è la prima volta che sulla Teramo Mare accadono episodi simili. Gli ultimi in ordine di tempo giovedì scorso, con un'utilitaria che sulla corsia a direzione L'Aquila procedeva verso il mare tra lo svincolo Teramo-Est e Sant'Atto. Auto fermata dalla polizia e condotta da un 79enne di Rocca Santa Maria. L'altro invece si è verificato l'11 luglio scorso, quando una vettura allo svincolo di Sant'Atto aveva sbagliato il senso di marcia. In entrambi i casi, miracolosamente, non ci furono conseguenze gravi, come invece è accaduto questa mattina.